Vedi il tuo cuore è una campagna di screening sulla popolazione per identificare cause cardiache di morte improvvisa. Le cause cardiache di morte improvvisa sono la malattia coronarica soprattutto nei soggetti che hanno più di 40 anni. Nei soggetti che hanno meno di 40 anni si tratta soprattutto di malattie del muscolo cardiaco che si chiamano cardiomiopatie o di malattie del sistema elettrico del cuore tra cui la sindrome di Brugada, la sindrome del cuttilungo. Quasi tutte queste patologie sono geneticamente trasmesse, quindi congenite. L'identificazione precoce può prevenire l'evento morte improvvisa che è un evento di grosse proporzioni. In Italia colpisce circa 50.000 persone ogni anno e quindi è un evento che va prevenuto adeguatamente e campagne di questo genere sono il miglior modo per prevenirlo. Il consiglio è appunto, come dice il titolo della campagna, andare a vedere il proprio cuore prima che eventi di questo genere accadano. Quindi campagne di questo genere sono rivolte a soggetti che non hanno per esempio mai fatto accertamenti cardiologici, né un elettrocardiogramma né un ecocardiogramma. Chi ha già eseguito accertamenti cardiologici che abbiano potuto escludere queste patologie può fare a meno di aderire a questa campagna. La prevenzione della morte improvvisa oggi si fa attraverso l'impianto di defibrillatori automatici. Ci sono degli oggetti a funzionamento elettronico che vengono impiattati sotto cute, sotto pelle, collegati con l'interno delle camere cardiache e che riconoscono l'arresto del cuore per fibrillazione ventricolare e defibrillano il cuore facendolo ripartire. Quindi riconoscere queste patologie vuol dire ricorrere all'utilizzo di questi sistemi, di questi mezzi che oggi abbiamo a disposizione per prevenire l'evento morte improvvisa. Grazie a tutti.